Questa mattina si è svolta la conferenza stampa organizzata dall'Associazione Genitori Tarantini davanti al nuovo manifesto affisso in Viale Magna Grecia tra Viemiglia e Corsitalia. Tra i temi trattati, quello del riavvio dell'Alto Forno 1, che avverrà martedì 15 ottobre, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Per le associazioni presenti, la ripartenza dell'Alto Forno significa far ripartire una bomba di elevato impatto inquinante che colpirà la cittadinanza. Inoltre, sono state presentate le iniziative organizzate dall'Associazione Genitori Tarantini in difesa dell'ambiente e della salute. Sì, qualcuno probabilmente lo potrà ritenere anche un evento epocale, per noi è un altro evento che mette la cittadinanza italiana sotto l'assedio della grande industria, dell'inquinamento altissimo che già con un solo alto forno viene prodotto. È un ulteriore schiaffo alla città, a quello che il popolo tarantino si aspetterebbe da un governo lungimirante. Invece, in perfetta continuità con i governi precedenti, anche questo governo viene a minacciare la vita dei tarantini attraverso l'accensione di un altro alto forno. È veramente una cosa inaccettabile ogni volta che la produzione aumenta e quindi aumenta l'inquinamento. Dobbiamo pensare che ci saranno molte più persone che si ammaleranno, molte persone che ci lasceranno purtroppo. E questo va veramente contro ogni dettame costituzionale. Sì, evidentemente hanno voluto dire che Taranto si deve dotare di tutto, ma di tutto quello che fa male alla salute, compreso questa nave per il rigassificatore, che servirà ancora una volta all'industria. Come tutto quello che succede a Taranto serve all'industria e mai alla salute, il benessere è al futuro dei tarantini. Che l'ONU ha dichiarato cittadini che vivono in una zona di sacrificio, cittadini che vengono trattati come usa e getta. Questo ci dovrebbe far pensare. Noi siamo come candele che aspettano l'uragano e quando passa l'uragano molte di queste candele purtroppo si spengono. Sì, io prima di tutto volevo ringraziare Massimo e Cinzia, l'associazione Tarantini e tutte le associazioni che hanno contribuito a questa conferenza stampa. Diciamo che io mi sono espresso e mi esprimo con le vignette, sono di poche parole, però la mano e la matita viaggiano. Sì, 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 ho pubblicato un mio spazio in cui do ruota libera alla mia fantasia e lo devo dire sinceramente, io non ho padroni. Ciò che mi viene per la testa disegno e comunque spero di essere nel giusto. Io spero che questa conferenza stampa possa scuotere l'opinione pubblica e speriamo che il 24 ottobre il Tribunale di Milano ci dia una mano affinché questa maledetta fabbrica chiuda per sempre.